Buongiorno a tutti, oggi vi parlo della musica come veicolo. Questo è un concetto che ci avete sentito ribadire più e più volte sul canale. Chi di voi fosse nuovo vi consiglio veramente e vivamente di andarvi a ripescare i video passati. Ma ci teniamo a sottolineare proprio questo aspetto perché molte persone sono ancora convinte che dalla musica si guadagna. Cioè dalla musica, cioè da quell'elemento che ormai oggi è, possiamo dire, quasi a tutti gli effetti liquido. La musica è presente ovunque, è presente in qualsiasi ambito. Se voi pensate a un mondo senza musica, ovunque voi andiate trovate della musica di sottofondo. E questo è anche un po' il problema perché poi nel tempo e rispetto agli anni passati, dove la musica era a tutti gli effetti un prodotto supportato da prodotti fisici, l'evoluzione del business musicale, l'evoluzione dei modelli di business che purtroppo in pochi conoscono, ha portato a utilizzare la musica come un veicolo, un veicolo per altre tipologie di prodotti o servizi. Quello che noi facciamo, fa molta fatica qui su Music Business Italia a far capire, è che il mondo e i business model musicali, che vi ricordo, sono estremamente polarizzati poiché l'industria attualmente sta in piedi per un 67% grazie allo streaming e alle piattaforme digitali, con tutta una serie di implicazioni che sarebbe lungo spiegare ovviamente su un video su YouTube, ma tra l'altro abbollate il 20 se la prossima settimana avremo modo di approfondire queste cose e purtroppo non ci sono più posti disponibili, per cui ahimè è andata così. Quando noi abbiamo una polarizzazione di questo tipo, che cosa succede solitamente? Che i modelli di business che si vanno a creare, se ve la devo dire in soldoni, tendono fondamentalmente a cercare nuove fonti di revenue, no? Fonti di revenue cosa significa? Nuove fonti da poter attingere denaro. E quali sono queste fonti al giorno d'oggi? Uno, per quei modelli di business che voi tanto cercate di seguire, in cui tanto cercate di posizionarvi. Gli ascoltatori, ok? Quindi tutto quello che riguarda, diciamo, il fruitore che paga degli abbonamenti per fruire di cataloghi musicali. Tutto quello che è il, possiamo dire, il mondo del diritto d'autore e del diritto connesso, quindi di tutti quei diritti che si vanno a generare dall'utilizzo della musica su determinati supporti, che possono essere digitali, fisici, audiovisivi, meccanici, eccetera, eccetera. Anche qui è meglio non entrare per non entrare in un ginepraio. E qual è la terza fonte di revenue? Attenzione, attenzione, siete proprio voi. Siete voi che la musica la fate. Cioè, cosa vuol dire? Che creiamo un mondo competitivo, altamente competitivo, all'interno di determinate piattaforme che hanno un determinato criterio di funzionamento, che è un criterio numerico, che è un criterio basato su una divisione direi ben poco equa di quelle che sono ovviamente le revenue generate, in questo caso dagli ascoltatori e dai fruitori, e cosa facciamo? Facciamo competere le persone che fanno musica per prendere una posizione all'interno di questo spazio e per fargli credere di prendere una posizione all'interno di questo spazio io utilizzo tutta una serie di servizi aggiuntivi per posizionare queste persone sulla loro piattaforma e non solo, per sfruttare la loro musica. Perché? Perché se voi ci pensate, io dico sempre, pensate alla genialità di questo modello, ok? Cioè, io, piattaforma X, non nominiamole, sfrutto, logicamente, il portafoglio dell'ascoltatore che paga un abbonamento per ascoltare ovviamente tutto ciò che io ho immagazzinato in catalogo. Tutto quello che ho immagazzinato in catalogo ce l'ho perché ho delle posizioni, o meglio, ho creato delle posizioni di equity, quindi delle posizioni di compartecipazione con quelle aziende, major discografiche e non, che hanno una determinata quantità di catalogo per cui sfrutto anche quel tipo di lavoro dando ovviamente una parte dei miei dividendi a quella realtà e creando fondamentalmente un... ok? Anche questo, meglio che non lo dico sennò poi dopo mi dicono che sono troppo ok? troppo estremo. Oltre a questo che cosa vado a fare? Vado a monetizzare su gli artisti. Sugli stessi artisti che producono una musica che è quella musica che mi serve per generare entrate dagli ascoltatori e li faccio competere all'interno di quel mercato come feed ingresso, aggregatori, tutte queste questi aggregatori ok? che pagando giustamente un servizio ti mettono, ti buttano nel calderone digitale tu stai pagando per essere lì sopra e tu stai pagando per essere lì sopra per essere sfruttato, doppiamente sfruttato. Qui purtroppo ci sono delle cose che io non posso dire su determinati distributori digitali e non le posso dire veramente perché sennò mi denuncerebbero perché ahimè c'è stato un periodo della mia vita dove volevo ok? questa è una cosa che vi dico dove ho voluto e volevo fortemente portare in un dibattito su Music Business Italia a determinati CEO di divisioni italiane di aziende che si occupavano di distribuzione digitale di determinati aggregatori e ovviamente questo tipo di aziende quando tu fai una preintervista ti mandano un bel plicone di fogli che tu devi firmare che io ho prontamente mandato all'avvocato dove fondamentalmente tu dichiari che qualsiasi cosa esca da quella situazione tu non la potrai dire e voi dovreste anche sapere che queste persone quando in realtà accettarono anche il fatto di venire qui a parlare insieme a me mi misero davanti al fatto di dire sì, però non possiamo parlare di A non possiamo parlare di B non possiamo parlare di C non possiamo parlare di B cioè in pratica non si può parlare di un cazzo ok? quindi a un certo punto io ho detto beh ma se io devo sottostare a delle regole di intervista dove io fondamentalmente non posso chiedere le cose più scomode quindi ragazzi io perché faccio questi video? perché continuo in perterrito? nonostante vi dico la sincera verità la mia stanchezza perché io credo che ci siamo spesi tanto su questo canale mi sono speso tanto su questo canale per cercare di creare consapevolezza no? perché di fondo io credo che il mondo della musica non possa cambiare se voi che la musica la fate e che volete far parte di un determinato mercato non siete in grado di crearvi il vostro modello perché se non siete in grado di crearvi il vostro modello qual è il fine? è che utilizzate un modello che non conoscete che è in mano ad altri che guadagna su di voi e non solo su di voi anche sui vostri ascoltatori voi pensate la follia io faccio della musica pago per stare su una piattaforma che non mi dà nessun tipo di rientro perché ha un modello di business che non è pensato per la sostenibilità di chi la musica la fa inoltre i miei potenziali ascoltatori che sono i miei clienti che dovrebbero essere i tuoi clienti vengono sfruttati da un modello di business che non è il tuo questa cosa ragazzi è follia ed è follia che questo non venga insegnato nelle scuole di musica è follia che oltre l'85% di persone che escono da scuole prestigiose a livello musicale che magari hanno anche una preparazione verticale incredibile non sappiano da che parte sono girati da questo punto di vista voi vi rendete conto che cosa sarà la musica tra dieci anni? io arrivo da una generazione un po' più anziana magari di voglio dire ho 34 anni e sono cresciuto ho visto la coda di un mondo diverso un mondo che non c'è più che è cambiato logicamente e quindi i miei idoli erano sicuramente altri rispetto a quelli che ci sono adesso ma guardate la durata anche dei prodotti musicali odierni cioè sono prodotti che non durano una stagione voi direte è un modello consumistico è un modello che è la conseguenza anche della velocità che c'è della quantità di informazioni del volere tutto e subito sì cazzo però voi dovreste fermarvi e dire ma io se voglio fare musica di mestiere voglio capire come costruire ma ancora prima di come costruire perché sennò poi sembra di essere tendenziosi sembra di essere eh no perché qua poi tiro acqua al mio mulino sia mai no? perché noi ovviamente rubiamo i soldi ai ragazzini no? veramente alcuni di voi secondo me sono proprio lobotomizzati e anche qua vi fanno il lavaggio del cervello voi anche se non lo volete a tutti me compreso fanno il lavaggio del cervello fatevi certe domande alle volte che è importante mi sono perso non mi ricordo cosa volevo dire vabbè comunque mi chiedo veramente ecco mi ero perso come si può fare a stare in un settore senza conoscere i suoi meccanismi dal profondo ragazzi dal profondo ci vuole tempo servono vi servono dei mentori vi servono delle persone che sanno quello che stanno dicendolo sanno per studio per esperienza diretta per aver visto persone con carta e penna firmare porcherie per aver parlato con dirigenti che ti dicono questo non me lo puoi chiedere quello non me lo puoi chiedere questo funziona così questo dato non te lo posso dare io veramente ci sono delle cose che ragazzi se ci penso sarei a volte ci penso e dovrei dire no dovrei spiattellarle fuori beccarmi una denuncia ok poi probabilmente finisco non so come dire in banca rotta però almeno dico la verità eh purtroppo però sapete no insomma è importante è importante certe cose conoscerle dall'interno che dirvi a breve uscirà un bellissimo documentario che abbiamo bellissimo spero bellissimo che abbiamo girato rispetto a un'esperienza produttiva ci vediamo a bollate ovviamente la prossima settimana sarà uno dei tanti eventi ok che stiamo organizzando in giro per l'Italia per cui ci vorrà un minimo di tempo ma piano piano arriveremo da tutti voi per che cosa? per creare una consapevolezza imprenditoriale tu mi stai guardando adesso ecco se tu hai speso anni a fare musica e oggi non ti preoccupi di spendere qualche anno a studiare cosa significa fare imprenditoria cosa significa lavorare cos'è il marketing che cosa significa gestire strategicamente un progetto che cos'è un business model cosa serve quando si è in una situazione di partenza che è una situazione che non è ancora pienamente strutturata come deve essere costruito che cosa significa un meccanismo promozionale a che punto entra in gioco la promozione soprattutto a che punto e in quale segmento rispetto a quello che hai visto prima all'interno del mercato dei business model sei fottuto sei fottuta anche se il pubblico femminile è minore rispetto al pubblico maschile ma ripeto pensateci a queste cose ragazzi pensateci perché se non ci pensate voi non ci penserà nessuno al posto vostro noi siamo usciti da questa condizione abbiamo trovato il nostro modo di portare avanti i progetti divulghiamo questo tipo di conoscenze attraverso percorsi mirati percorsi fatti ad hoc percorsi che durano mesi dove serve impegno dove l'obiettivo è quello di creare questa benedetta scissione tra il dilettantismo e il professionismo e il professionista è colui che ha una rendita continuativa punto e basta il resto siete bravissimi a suonare siete bravissimi a leggere lo spartito sapete leggere a prima vista sapete suonarmi tutti i soli del Nardo del Charlie Wilcoxon se mi sapete fare bene non significa che siete dei professionisti quindi io vi invito a ragionare fortemente su questi argomenti ok e ripeto ricordatevi che la musica è il vostro veicolo quindi se voi non sapete che cacchio state veicolando siete in un bagno un po' torbido da cui potete assolutamente uscire e dovete uscire per sviluppare i vostri progetti per sviluppare la vostra progettualità per potervi permettere di produrre quello che volete voi senza rendere conto a nessuno io mi auguro che questo vi faccia riflettere chiunque di voi volesse sapete che la nostra mail ce l'avete potete contattarci ok c'è un iter ovviamente ma questo è il nostro contatto vi risponderemo ASAP ok io vi ringrazio vi invito a rimanere in campana per l'uscita di questo documentario e grazie a tutti e arrivederci